Un giorno la piccola formica andò dal vecchio ragno e gli chiese Ragno, perché hai due zampe più di me? E il ragno le disse Se t'avvicini saprai la verità La piccola formica si avvicinò al vecchio ragno incurante, innocente, così vicino che poteva osservare le sue fauci e i suoi mille occhi che la scrutavano senza perderla di vista un momento Ad un tratto il vecchio ragno si alzò con tutte le sue zampe e senza lasciare un secondo di respiro la piccola formica Sono un arachnide, non sono un insetto Poi le fece una carezza e la lasciò giocare tutto il giorno sulla sua grande ed immensa ragnatela che se non lo sapete è perfetta per saltare, rimbalzare e fare mille e mille capriole Dimenticavo Per chi avesse pensato che il vecchio ragno avrebbe mangiato la piccola formica traendola in inganno sulla sua ragnatela si consiglia di avere più fiducia nel prossimo Per chi avesse pensato che il vecchio ragno avrebbe mangiato la piccola formica